Parliamo nuovamente di artisti favaresi che si fanno apprezzare in campo internazionale per il loro talento. Oggi ci occupiamo di Carmelo Nicotra, quest'ultimo da poco diplomatosi presso l'Accademia delle Belle Arti di Palermo e tra gli artisti che partecipano alla 54esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Le opere dell'artista favarese si possono ammirare nel padiglione Italia Accademia, dell'ambita a vetrina mondiale diretta da Paolo Baratta. Quello di Venezia per Nicotra è un obiettivo sperato anche da tanti giovani artisti emergenti e non, in quanto offre l'opportunità di farsi conoscere. La Biennale infatti richiama un grande pubblico di appassionati e studiosi provenienti da ogni parte del mondo ed in merito alla partecipazione alla Biennale di Venezia di Carmelo Nicotra, l'associazione culturale Nicodemo di Favara di cui l'artista è membro, in una nota esprime la propria soddisfazione. La nostra associazione, si legge nella nota, in questi giorni sta festeggiando con grande orgoglio e soddisfazione un importante traguardo raggiunto da Carmelo Nicotra. Il successo personale di Carmelo continua, rappresenta motivo di gioia per tutti noi. Alla Biennale di Venezia, oltre al favarese Carmelo Nicotra, anche l'artista aragonese Renzo Bellanca.